buongiorno buongiorno occhio pecoro eccolo qua tornato l'occhio pecoro pecorizzato al punto giusto è lui o non è lui certo non è lui lo schiso era fatta anche uno schizettino fuori oggi bello schiso mercoledì metà settimana occhio de pecorizza no vabbè sta pieno mamma mia stamattina pienissimo proprio guardate una cosa non ci si crede mamma mia sta pieno 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 o no le chiavi del motoscafo ce le hai tu? è il rapido di coglione ce le hai tu? le chiavi del motoscafo ce le hai tu? le chiavi del motoscafo ma vaffanculo tu e il motoscafo anche oggi allenamento fatto sudato? no ti sono mollato col secchio tanto cruz vai bravo sto cazzo ma buongiorno buongiorno un cazzo ma che stai facendo? oh ma butti il cazzo che ti ho cazzato in te la vacca vabbè la violenza di prima mattina no ma no no tu fai i cosi che pu fai comunque con sto buongiorno mi so svi fermati stupido ma ti trema al braccio ti tira un po' cazzo ti trema al braccio ma ti tira ti trema al braccio dopo di scorre io ti trema ah il cazzo no fai 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 radio a palla che ha fatto già stamattina? schifatevi che cambiasse la maglietta ma no la maglietta da marinaio schifatevi schifatevi è una maglietta che la porta il gondolino no lui è il marinaio il marinaio è il gondoliere è il gondoliere schifatevi schifatevi vergognatevi è il coccodrillo brillo come fa ah 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 Fabiano si scappa si scappa al prete si scappa al prete c'è che ti fa? oh si scappa al prete si scappa al prete si scappa al prete si scappa al prete sta guardando il cantiere guardatevi i calzettini vostri guardatevi oh prossima di che contenzione dire che cambiasse la maglia no oggi giornata ricca perché basta un camion in piazza per creare questo guardate Antonello venditi tutti presenti oggi oggi c'è proprio massima affluenza per vedere il camion ma sti pantaloni li cambiamo? lo ho cambiato stamattina li cambiamo mettere a Dio no no vai di fronte benedicus bovis impotentis deus peccatori di fronte alle chiasorum voi del bestemiorum scusa là perché Cocorito Loreto portano i canati occhio occhio che chiude le porte chiude le porte chiude le porte ce l'ha con tutti ce l'ha numero 7 sono io il numero 7 fermate sceno sono io il numero 7 ma questo è il suo senza lame il numero 7 era il mio il tuo ma va via cammina lascia ma è rubatovaia la guardate con l'onda la segnata è rubatovaia giocavo a rubatovaia dai un pochino posto l'ho detto a tovaia che va per tutti i vetri perché questa è quella a onda vedi come fa le onde ma prendi a tovaia queste onde tu te la puoi mettere anche così sta tovaia guarda le sciatte di coglione non ha zaffato sempre il violento dico a te dico a te a te ma dove vuoi guarda chi è a dieta guarda guarda eh anche tu dovresti ma tu pensa picazze tu dimmi fuori mie forze enormi invoca una linea comune Roma si prepara a gestire gli aspetti sanitario dell'accoglienza il prende era dato mandato al controllo che fa ma carina cammina arzughe tu che la che ne goli non ce la mette giusto no scalzo no però boraccio la ma scalzo no però era scalzo c'ha ragione nonna maria c'ha ragione era scalzo chi mette in mezzo eh per se non fanno il petto da te chiama il signore una madonna e a bocca tra quattro giorni avrà danno su a faccia a faccia no ho appena postato un reel fate swipe oggi metterò tra gli amici più stretti tre di voi che condivideranno di più questo post quindi fate swipe leva sta tavoletta oh ma prima mi è fretta ma non è fretta ah come i figli guarda ta ma che mettete la cintura sotto palla come sta che sei cazzo che c'è cazzo guarda 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 la freccia di qua la freccia di là ooooh è stato lì è verde mi sono addormentato ma che c'è addormentato ma non è stato addormentato no guida la lavagna mi sono addormentato un attimo che c'è dai ci affanculo tu ma perché se uno non si può addormentare un po' ma tu dove stiamo? dove stiamo? nella clinica ma che fa oh ma che fai ma che fai ma che fai oh che stai fai oh sforzati si ma non va non va bene la bicicletta lei rapia hai capito ma mica lo presa su la bicicletta c'ho caminata e che vuol dire ah poi capito di qui tocca liquido eh no ssh mettiamo la indeficiente merda vero che tocca mettere la cremina assolutamente fa bene anche per il viso senti Eleonora che ti ha detto ti fa anch'io il massaggino no fermete famete far il massaggino vedo gli amici sui c'ho 30 anni 32 sono tutte pelate fermete ti fa il massaggino le hai dato fermo il massaggino che ti ha messo ma che ne so è gelato adesso è freddo freddo come è gelato allora levalo fermete non rompa l'anima da retta e che fai eh che hai messo eh non ho messo l'artiglio del coccodrillo eh 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 che ci fai con questo artiglio del coccodrillo eh c'è caraffio c'è andata a comprare la porchetta se per te la porchetta magna sa vedi topazia come va magna sa magna topazia topazia a prenderlo ecco subito prego marchese si accomodi guarda guarda la cosa di satana il forcone la mano di satana fai una benedizione come spingi ti toccolgi vai lontano satana benedicu spaventisdeus peccatoribu lontano satana ma fermati e te scappa un'ora come spingi che venga fermati no scalzo no devo controllare qua perché il teatro all'aperto deve sempre essere a un certo livello e oggi che cantiamo canta io non ti conosco io non so chi sei ma te conosco io mascherina non c'è niente è da me giù le mani è da me giù le mani vedi c'è l'artiglio di satana no l'artiglio di satana ma quando ti vede nonna ma quanto si divertono quanto ci divertimo quanto befamo divertì è l'unico teatro all'aperto alla barba dei rosiconi ecco alla barba dei rosiconi noi ci divertiamo è all'aperto non si paga niente gratuito è improvvisato è improvvisato ha rubato il motorino dove andate sul boosterillo andavo a Sisi eh a Sisi a che fa giro turistico giro turistico bravi guarda avanzate belli potreste fa uno per uno guarda che gli ha messo il forcone il forcone guarda che gli ha messo questo è un filza il forcone del 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 il forcone del il forcone del va via va via il forcone del va via che ti rollo l'insalata il forcone eccolo il forcone il forcone il forcone la mia calcio a 7 super proce ah che bello vedevo l'ora ragazzi quanto mi piace giocare a calcio a 7 qual è il vostro sport preferito da praticare con gli amici logicamente mamma mia dolori ovunque ragazzi ovunque certo che domani come possiamo svegliare non fa o scrivetemelo in DM gli vogliamo dare una botta di flauto gli vogliamo mettere un lulato del lupo il muggito della mucca però dai domani c'è sta un bel risveglio top aiutatemi un po' dai anche voi su vediamo un po' che scrivete